Lyrics Training è un'applicazione web per imparare le lingue straniere utilizzando le nostre canzoni preferite. Per utilizzare Lyrics Training non dobbiamo far altro che collegarci alla piattaforma lyricstraining.com e quindi scegliere la canzone che vogliamo utilizzare per creare il nostro esercizio. Possiamo scegliere i video musicali sia tra quelli proposti nella home page di Lyrics Training, che sono generalmente del momento o comunque canzoni di successo, ma possiamo anche andare a cercare la canzone desiderata utilizzando la barra di ricerca in alto. Possiamo filtrare la nostra ricerca anche per genere musicale. Lyrics Training sarà in grado di trovare qualsiasi video musicale presente su YouTube. Adesso proviamo a scegliere una canzone direttamente dalla home page per creare un esercizio di prova. Clicchiamo quindi sulla canzone che vogliamo utilizzare, scegliamo il livello del nostro esercizio che potrà essere Beginner, Intermediate, Advanced o Expert. In questo caso scegliamo Intermediate. Una volta scelto il livello dobbiamo scegliere la modalità di esercizio che potrà essere Write Mode, in questo caso i ragazzi dovranno scrivere le parole che mancano, oppure possiamo utilizzare una modalità più accessibile che è quella Choice Mode. In questo caso i ragazzi dovranno scegliere le parole tra le quattro opzioni che di volta in volta verranno proposte dal software. Bene, una volta scelta la modalità non ci resta che cliccare al centro dello schermo e quindi avviare i video per svolgere l'esercizio. Come vedete le quattro parole che di volta in volte i ragazzi dovranno scegliere, compaiono alla destra dello schermo. Una opzione molto interessante è quella poi di salvare gli esercizi utilizzando la funzione New Exercise qua in basso. Cliccando infatti su New Exercise noi salveremo la canzone che abbiamo utilizzato per fare il nostro esercizio, dandole prima di tutto un titolo. Anche in questo caso poi sceglieremo il livello, sceglieremo la modalità e soprattutto saremo noi in questo caso a scegliere le parole che vogliamo che i ragazzi inseriscano. Una volta creato il nostro esercizio possiamo cliccare qua su preview per vedere un'anteprima oppure salvarlo. Una volta salvato l'esercizio sarà presente nella sezione Exercise, da qui possiamo accedere se andiamo a cliccare in alto a destra a fianco alla foto del nostro profilo. La sezione si chiama My Exercises. Un'altra opzione molto interessante sta nella possibilità di creare anche un esercizio che i ragazzi possono svolgere su carta, quindi un testo con lacune. Cliccando infatti qua su Print Lyrics abbiamo il testo pronto per essere stampato ma anche pronto per essere modificato. Anche in questo caso possiamo scegliere noi le parole che i ragazzi dovranno inserire sempre cliccando sulla parola che vogliamo utilizzare per l'esercizio. Possiamo qua lasciare spuntata l'opzione Show Missing Words. In questo caso i ragazzi sceglieranno le parole da inserire tra quelle presenti in fondo alla scheda, quindi mano a mano che noi clicchiamo su una parola questa parola sarà presente alla fine della scheda e questo renderà l'esercizio più accessibile. Una volta che abbiamo preparato il nostro esercizio non ci resta che cliccare su Print Now. Lyrics Training è sicuramente un'applicazione molto interessante per l'apprendimento delle lingue straniere. È presente anche come applicazione per dispositivi mobili sia Android che Apple ma con un altro nome che è LingoClip. Grazie a tutti.